Nuova allarme di caduta massi dalla rupe del centro storico della città di Agropoli. Negli anni sono stati diversi gli appelli dei cittadini residenti del borgo antico all'amministrazione comunale, senza però ricevere un intervento mirato. L'area dove purtroppo avvengono spesso cedimenti è quella tra il fortino e il faro, unico luogo raggiungibile a piedi che porta sulla costa sottostante. L'incuria e la scarsa manutenzione rischiano di cancellare per sempre un pezzo di storia della città. Il fenomeno franoso va avanti da svariati anni, circa una decina, e nonostante il continuo appello dei residenti nulla è stato fatto per risolvere o quantomeno verificare le condizioni per intervenire. Nel video girato da un residente del borgo si vedono bene come grossi massi si siano staccati dal costone. Gli abitanti del posto chiedono a gran voce che si intervenga al più presto per fermare il movimento franoso che insiste da tempo e che potrebbe far scomparire e rendere completamente inaccessibile uno dei luoghi simbolo della città. Dal costone roccioso tra il fortino e il faro si è staccato, insomma, si sono staccati altri massi. È un movimento franoso che dura da decenni, insomma, quindi lì l'amministrazione comunale però non è intervenuta. Che cosa possiamo rispondere ai cittadini? Stiamo facendo uno studio per capire l'entità del problema. È chiaro che ci preoccupa molto. È vero che non siamo intervenuti ma dobbiamo capire bene di cosa si tratta, se è una cosa diciamo relativa a un dilevamento di piccole dimensioni o se c'è un movimento franoso portando in atto. Questo è importante capirlo anche perché poi l'intervento sarà organizzato sulla base della serietà del problema. Comunque le vetifiche le stiamo facendo. Oggi ho firmato un'ordinanza proprio per mettere in sicurezza quell'area. Nei prossimi giorni i tecnici studieranno quali sono i problemi e come dovremo intervenire.